Sulla moto 2024 abbiamo introdotto una lunga serie di innovazioni rispetto alla precedente su tutti i fronti ritengo che la prestazione sarà superiore appunto sotto tutti gli aspetti e non è trascurabile anche il fatto che a livello di capacità di analisi delle prestazioni quindi qualcosa di non strettamente materiale ma che contribuisce in maniera importante alla performance abbiamo fatto anche lì dei passi avanti quindi ritengo che le nostre prestazioni 2024 saranno superiori a quelle 2023 poi vedremo il confronto con gli altri esteticamente la moto è piuttosto diversa dalla precedente mantiene tutti i concetti aerodinamici che aprilia ha introdotto in moto gp introduce delle novità concettuali importanti nella parte posteriore siamo ansiosi di portarla in pista perché crediamo che sarà un grosso passo avanti una novità importante del 2024 sarà a breve la possibilità di avere in pista 4 aprilia allineate come specifica quindi moto perfettamente confrontabili quindi con prestazioni al top e possibilità di confrontare le performance in maniera diretta con i quattro piloti fortissimi che abbiamo credo che sarà un elemento fondamentale per la performance 2024 il 2023 è stato caratterizzato da prestazioni notevolissime in alcune situazioni e non soddisfacenti in altre piste abbiamo lavorato molto per capire il perché di questo credo che il 2024 sarà più consistent come dicono gli inglesi quindi una prestazione più costante allineata mi auguro alle migliori che abbiamo avuto nel 2023